L'ex volto di uomini e donne è apparso in pubblico totalmente irriconoscibile. Gli ultimi scatti hanno destato grande curiosità nei fan. Complice sicuramente il tempo che passa, il prima e dopo è diventato oggetto di grandi discussioni, in particolare per coloro che seguono il dating show di Maria De Filippi da tempo, e hanno visto personaggi del tutto stravolti dopo alcuni anni. Questo è sicuramente uno di questi casi. Non è la prima volta che una delle partecipanti sia oggetto di una grande trasformazione estetica, ma sempre questi cambiamenti sono poi messi sotto la lente di ingrandimento, soprattutto dal pubblico che segue con attenzione le vicende ed è rimasto fedele ad alcuni personaggi molto noti all'interno dello show. Ex volto di uomini e donne prima e dopo, è irriconoscibile. I fan di uomini e donne certamente ricorderanno un volto noto del 2015, ovvero Alessia Messina, storica corteggiatrice che prese parte al dating show per Amedeo Andreozzi. I due si innamorarono nel programma, e uscirono dopo insieme, con una scelta molto romantica. Successivamente parteciparono anche a Temptation Island, le cose non andavano bene e pochi mesi dopo misero la parola a fine al loro rapporto. Alessia poi si è allontanata dal mondo della tv ed è però stata sempre attiva sui social. Nelle ultime ore si torna a parlare di lei per alcune foto che ha pubblicato sul profilo ufficiale che mostrano il suo radicale cambiamento rispetto agli anni in cui aveva preso parte al programma. Sicuramente sono passati nove anni e quindi il tempo ha fatto il suo corso ma non pare essere stato l'unica questione ad interessare il suo volto. Oggettivamente la donna sembra un'altra persona e non sorprende che la notizia abbia fatto il giro dei social diventando virale. Dando uno sguardo al profilo sembra chiaro che Alessia Messina abbia fatto alcuni ritocchi estetici e interventi di chirurgia plastica. Il prima e dopo è innegabilmente differente e ovviamente i fan hanno commentato la notizia. L'espressione però non è stata sicuramente molto felice perché hanno notato un conformarsi a certi standard estetici che ora sono molto di moda, come le labbra particolarmente grandi. Alessia tuttavia non ha ancora commentato la polemica anche se chiaramente, suo il corpo sua la scelta, e quindi preferire il silenzio è comunque un atto utile per non dare ulteriore terreno e possibilità a chiunque di stabilire cosa è giusto e cosa non lo è.